Un terremoto improvviso e di proporzioni in mani ha spazzato via la città di Senigallia con una furia mai vista. Dove un tempo sorgevano bellissimi palazzi ed eleganti dimore, si stende ora una landa desolata sferzata da un vento gelido. Tra i pochissimi superstiti, 43 studenti del liceo Enrico Medi. Di fronte allo spettacolo desolante della città annientata, i giovani decidono di abbandonare quel che resta della gloriosa Sena Gallica e di ritirarsi nel contado, in quel di Arcevia, l'unico luogo risparmiato dall'ira funesta di madre natura per sfuggire alla morte e ricominciare a vivere. La lieta brigata, abbandonato lo smartphone ormai inutilizzabile, ritroverà il senso della vita e della propria umanità perduta in quella letteratura tanto vituperata tra i banchi di scuola. Per ringraziare Giovanni Boccaccio di averli consolati in momenti di sconforto dovuti a strazianti pene d'amore, i giovani della gentile et onesta brigata racconteranno a turno quattro novelle tratte dal Decameron.